Mure schiacciato dal carrello elevatore che stava tentando di riparare. A perdere la vita SB, queste le iniziali del 42N di Caivano, comune nel napoletano. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15.30, l'uomo, operaio presso la RP Tecnologie, fabbrica metalmeccanica nel nucleo industriale di Pozzilli, era intento nella riparazione del motore di un muletto, il carrello usato per la movimentazione delle merci. All'improvviso, le forche del mezzo sono precipitate verso il basso. Per il malcapitato che stava lavorando proprio nella parte anteriore del carrello, non c'è stato nulla da fare. Raccapricciante la scena dell'incidente apparsa ai colleghi di lavoro. L'uomo sarebbe rimasto imprigionato nel mezzo, con la colonna vertebrale schiacciata. Sul posto un'ambulanza di sernia soccorso e poi, in attesa del magistrato, per i rilievi del caso, il via vai di mezzi, di carabinieri della compagnia di Venafro, Digos e vigili del fuoco. Un quadro più chiaro e preciso della dinamica e soprattutto delle cause dell'incidente dovrebbe emergere nelle prossime ore. L'unica certezza al momento, quella di un'altra morte bianca in una fabbrica del nucleo industriale di Pozzilli.